buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo day steve sono oramai quasi le 11 ho usato un po' una parte perché avevo un po' la memoria del telefono piena quindi ho tenuto per fare altre cose per farvi vedere l'elemento e poi ho liberato la memoria e adesso mi metterò a studiare mi metterò a studiare grazie 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 ebbene anche oggi la giornata è finita si ho fatto una bella giornata anche oggi e domani è un altro giorno ci vediamo domani bye bye